segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te all'ottanta per cento delle parole che dice la meloni in questo video non sono vere la meloni riesce a buttare fumo negli occhi da sei mesi agli italiani stiamo parlando del giusto fare il consiglio dei ministri primo maggio sì il primo maggio no quando con un giochino contabile dovuto un'inflazione che sta continuando a crescere si mettono questi soldi per un provvedimento una tantum perché questo provvedimento fino a dicembre dura poi dopo da dicembre questo provvedimento ritorna a com'è quindi non è un taglio strutturale delle tasse è una roba una tantum di cinque mesi butta fumo negli occhi perché si inventano polemiche fascismo migranti questo def si basa sui migranti nessuno alla meloni glielo chiede ma in questo def c'è scritto che senza migranti il debito pubblico crolla e l'hanno scritto loro nessuno gli dice come si fa a conciliare questa cosa parla di natalità ma per dare un impulso alla natalità come si fa a conciliare un impulso alla natalità con la precarietà ma la meloni lo sa che se i giovani vogliono costruire un futuro vogliono costruire una famiglia la prima cosa è avere un contratto stabile mentre in questo provvedimento si torna indietro al jobs act di renzi quindi tutto fumo negli occhi per sviare i veri problemi che ci sono in italiano avessero lavorato giovedì alla camera che sono rimasti a casa avessero lavorato anche giovedì scorso alla camera che sono rimasti a casa i parlamentari però scusi di calderone ha detto molto chiaramente che il decreto dignità non ha fatto crescere il lavoro stabile e poi molte imprese hanno usato il decreto dignità per fare per cambiare continuamente le persone quindi questo certo allora questo non è assolutamente così innanzitutto si dice anche che si dice anche che c'è stato maggior lavoro nero in italia quando non è vero il lavoro nero in questo paese è calato nel biennio 2019 2020 lavoro irregolare la calderone parla per slogan e parla per farò anche qui dice vedremo di renderlo strutturale no non funziona così si fa una programmazione si decide di renderlo strutturale ma è un modus operandi di questo governo il vice ministro leo alla domanda ma questa riforma fiscale dove troverete le coperture risponde vedremo in corso d'opera la verità realtà sa qual è che qui si annunciano fondi e controfondi ma lo sa che è scaduto il fondo da un miliardo per risarcire medici eroi durante la pandemia è risale è scaduto il fondo da 2 miliardi per aumentare i posti universitari sono scadute intanto si fanno altri fondi